Grazie a tutti. Il professor Stefanini, che è un illustre socio di questa accademia, medico, si è poi dedicato però alla ricerca di base, principalmente occupandoci della gamatogenesi, di certi recettori dei gameti che erano poi correlati con certe malattie. E qui è stata, insomma, la sua fama è venuta da queste ricerche. Più recentemente, negli ultimi dieci anni, più o meno, si è dedicato anche allo studio delle cellule staminali, sia nell'animale che nell'uomo. E il suo intento è di darci un'idea, diciamo, questo è possibile, questo non è possibile, questo forse sarà possibile. Ecco, questa è l'idea. Perché anche sulle cellule staminali, molti sono stati, se sbaglio, sogni. In alcune malattie, però, i progressi sono stati immensi. Questa forse è una delle prime conferenze proprio mediche che facciamo. e abbiamo avuto anche l'onore che l'Ordine dei Medici della provincia qui di Roma ha mandato un suo consigliere a darci un saluto. Vuole darci un saluto, per favore? Brevissimamente porto il saluto del Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, il Dottor Lala, e mi permetto di aggiungere una personale soddisfazione come medico a essere presente, sia pure brevemente, in mezzo a voi. Perché il tema è importante e ancora più importante, credo, che è lo spirito dell'iniziativa. Dicevo prima al Professor Maffei che la forza, scusate questa brevissima, così, sforamento, sul mio comodino, ho un libro sull'impero bizantino, perché poi uno alterno, io faccio direzione sanitaria, ed è utile sapere cosa si dice, come parlare e le strategie, perché non è semplice gestire 500 colleghi e infermieri, insomma, devi avere una certa capacità, se no ti buttano subito fuori. E leggevo in questo libro che la forza dell'impero romano è stata la forza, la strategia. La forza dell'impero bizantino è stata l'astuzia. E noi possiamo dire che la forza e l'autorivolezza dell'uomo europeo è la conoscenza. E' ciò che ci ha dato la nostra benessere, ci ha dato la nostra ricchezza culturale, la nostra spiritualità. E questa iniziativa sicuramente si mette nella scia, ecco, di una diffusione della conoscenza. Se è vero come è vero e chiudo, che lo stesso Cicerone ha imparato il greco a 80 anni. Quindi un tema comunque che si va in una scia di sapere e di riflessione, perché più si pensa, più nella vita si ottengono risultati positivi. In più questo tema che il professor Stefanini introdurrà sulle cellule staminali sicuramente sarà importante. E mi auguro che porti a casa, in prospettiva, non false speranze, ma realtà e appunto prospettive. Speriamo che sia così e comunque grazie dell'invito, l'ordine è sempre vicino all'Accademia e buon lavoro. Grazie. Mario, attua. Buonasera, signore e signori, cari colleghi, debbo innanzitutto ringraziare il Presidente Maffei dell'opportunità che mi ha dato di fare questa presentazione e la mia intenzione è di raccontarvi in una forma che spero piana e comprensibile cosa sono le cellule staminali, come queste sono state affrontate nella prospettiva di utilizzarle per curare quelle patologie che sostanzialmente sono legate a una perdita di cellule per la loro degenerazione o la loro scomparsa. Il primo argomento che affronta è quello della rigenerazione tessutale. è una cosa molto ben conosciuta a tutti, che i tessuti si mantengono sostituendo le cellule che scompaiono perché invecchiate o perché perdute, producendo nuove cellule. Questa capacità di rigenerare i tessuti, per esempio nei metazzoi e anche negli urodeli, è particolarmente intensa e molto ricca, tant'è che non soltanto si possono rigenerare i tessuti ma addirittura di costituire parti di un organismo e qui vedete molto rapidamente perché il tempo a disposizione non è poi tanto, per esempio la possibilità per un tritone di rigenerare la sua zampa, sia che sia tagliata a livello dell'ulna e del rario o che sia tagliata invece a livello dell'omero. Vedete, a successivi intervalli di tempo questa zampa si riforma e assume la sua configurazione iniziale e nei vertebrati, nelle specie superiori e nell'uomo in realtà tutto questo è per gran parte perduto e non è detto che sia uno svantaggio perché un'intensa rigenerazione di questo tipo potrebbe veramente creare grossi problemi di tipo oncologico. Non vogliamo trasformarci in un tritone, è in interesse della scienza di fare questo. La rigenerazione tessutale è quella che possiamo osservare in tanti tessuti come in questo caso un epidermide nella quale vediamo le cellule più superficiali che sfatano e sono sostituiti da cellule che sono situate nello stato basale e che dividono e differenziano progressivamente, questo termine differenziano vuol dire che maturano dando luogo a queste altre cellule sempre più differenziate che sono quelle poi che svolgono la funzione di protezione. Ecco, questa capacità rigenerativa da quali tipi cellulari è sviluppata? Dalle cosiddette cellule staminali, quindi non sorprende che sia proprio un istologo, un embriologo a parlarvi di cellule staminali, è quello che noi facciamo quotidianamente parlando ai nostri studenti. Queste cellule staminali sono delle cellule che hanno una proprietà unica e che non hanno le altre cellule che formano il nostro corpo che è quella di sapersi dividere, si dice con una mitosi asimmetrica o bivalente perché da una parte dividono dando una cellula che rimane staminale che ha la stessa caratteristica della cellula di partenza dall'altra invece da una cellula che si dice è destinata, è committed cioè è una cellula che dà luogo a queste cellule precursori che si dividono invece molto intensamente, molto ripetutamente dando luogo a un clone, cioè a un gruppo di cellule tutte figlie di una cellula madre che sono quelle che maturano, differenziano ed infine vanno a sostituire le cellule che sono scomparse. Queste cellule staminali quindi hanno questa proprietà di sapersi autorigenerare da una parte e dall'altra di dar luogo a una popolazione cellulare che progressivamente va a sostituire le cellule invecchiate, le cellule scomparse. Ora tutto questo dove avviene? Avviene in delle aree che si chiamano nicchie questo concetto è un concetto più funzionale che strutturale cioè delle aree dove le cellule staminali ricevono segnali dalle strutture circostanti che sostanzialmente le mantengono tali, cioè le mantengono staminali cioè ne inibiscono la maturazione e le fanno proliferare molto lentamente è molto utile questo fatto che non prolifere tanto intensamente perché la prolifazione del visione cellulare spesso si accompagna a mutazioni e questo quindi può creare un problema per i successivi cicli rigenerativi. Quindi noi nella gran parte dei nostri tessuti abbiamo queste cellule staminali che provvedono al normale rinnovamento dei tessuti stessi quindi nell'ambito del fisiologico e qualche volta anche un po' di più se per esempio facciamo una fatica sostenuta molte delle nostre cellule muscolari possono degenerare e sono sostituite da cellule neoformate a partire dalle cellule staminali del muscolo che si chiamano cellule satelliti vedete che qui i colori vogliono indicare che questa zona dove queste cellule ricevono i segnali che rimantengono staminali deve essere poi abbandonata dalla progenie perché queste cellule possano cominciare a proliferare intensamente come è necessario per sostituire i tanti globuli rossi che degenerano i tanti keratoniciti della pelle che continuamente si sfaldano ecco questo della paracrenia è un concetto che vorrei darvi perché poi ci servirà i segnali che mantengono queste cellule staminali nella nicchia si chiamano segnali paracreni che vuol dire questo? che provengono da strutture adiacenti quindi non è come un ormone che va in circolo e agisce anche a distanza queste invece sono molecole o contatti cellula a cellula che agiscono soltanto nelle immediate vicinanze della sorgente del fattore che viene rilasciato ora dove sono nell'organismo di un individuo adulto queste cellule staminali? qua sono indicati tanti tessuti il tessuto emopoietico l'intestino l'epidermide che abbiamo visto ma anche il fegato, il cuore, il muscolo scheletrico il bulbo pilifero e così via quindi questo concetto sta allargando enormemente mentre prima si pensava che fossero pochi gli organi che avessero questa dotazione di cellule staminali in realtà più si va avanti e più si vede che quasi tutti gli organi ce l'hanno la grande sorpresa è vedere che addirittura il tessuto nervoso l'encefalo aveva cellule staminali e invece ci sono ora facciamo l'esempio del sangue il sangue come sapete è fatto di tanti tipi cellulari che hanno una vita media breve molto breve rispetto alla vita media di un individuo quelle che campano più a lungo sono alcuni linfociti che possono campare anni i globuli rossi mesi ma ci sono cellule che durano pochi giorni quindi c'è un'intensa produzione di nuove cellule staminali a partire da dove? a partire da una cellula scusate un'intensa produzione di cellule del sangue a partire da delle cellule staminali che sono situate nel midollo osseo la caratteristica di queste cellule staminali è che queste cellule contrariamente a quelle per esempio dell'epidermide che sanno fare solo epidermide o quelle del muscolo che sanno fare solo muscolo queste invece sono cellule cosiddette multipotenti perché sanno fare tutte le cellule del sangue da globulo rosso alle piastine per intendersi passando per tutte le altre cellule comprese anche quelle che poi sono le cellule del tessuto linfatico ora questa multipotenzialità è stato il trigger lo stimolo che ha fatto pensare questa delle cellule ematopoietiche che si potesse utilizzare delle cellule staminali per diciamo così fare rigenerare cellule perdute in un altro tessuto che non fosse il sangue che non fosse il midollo osseo cioè si è affermato questo concetto è il transdifferenziamento io prendo una cellula staminare del sangue questa cellula staminare del sangue in realtà sa fare sangue soltanto ma vediamo un po' se messa in un'altra nicchia sottoposta quindi a questa stimolazione paracchita caratteristica di questa nicchia fosse mai capace di acquisire competenze specifiche di quel tessuto e dar luogo quindi a cellule proprie di quel tessuto quindi c'ho una patologia neurodegenerativa grave come purtroppo ce ne sono l'Alzheimer, Parkinson, Larkington e che cosa posso fare? vediamo se mettendo lì cellule staminali non del tessuto nervoso ma del midollo spinale è possibile che queste cellule si adattino a questo nuovo ambiente siano capaci in qualche modo di transdifferenziare e di acquisire le caratteristiche proprie di cellule staminali del tessuto nervoso questo è il punto di partenza di tutto il grande interesse per le cellule staminali la sua potenzialità come mezzo per curare specifiche patologie che sono quelle che vi ho detto del tessuto nervoso ma pensate anche all'infarto del miocardio degenerano i miocardiosciti e di nuovo la possibilità che possano essere usate cellule di un altro distretto perché transdifferenziano in quello e lo stesso vale per il muscolo scheletrico pensate a tutte le grave miopatie ora questo della transdifferenziazione è una cosa che è venuto fuori negli anni 80 e 90 in particolare e in realtà quello che alla fine bisogna considerare è che questa transdifferenziazione è un evento estremamente raro non direi stocastico ma estremamente raro quindi di grandissimo interesse dal punto di vista biologico perché comunque i meccanismi di transdifferenziazione sono un punto di riferimento perché capirne le cause possono essere e può essere il modo per poi incrementare ma in realtà le cellule che transdifferenziano sono molto poche non soltanto sono molto poche ma c'è grandi problemi di localizzazione quello che si chiama homing cioè farmi in maniera che la loro casa divenga l'organo nelle quali noi le vogliamo far andare se è il cuore che sia la loro casa e il cuore ed ancora è estremamente difficile fare in maniera che queste cellule differenzino poi correttamente nel tipo cellulare che noi vogliamo rimpiazzare ed infine che questa quando accadesse che questo fosse una cosa persistente non così rapida e quindi bisogna dire che in realtà questa della transdifferenziazione è una cosa che non esiste e tutte queste terapie che si basano su questa ipotetica possibilità di transdifferenziale in realtà non sono né sicure né efficaci è vero però che mettere cellule staminali del midollo osseo per esempio nel cuore dà un beneficio come vedremo più nel dettaglio ma questo beneficio è relativo è molto esiguo e comunque tutti i trial clinici che vedremo sono stati fatti a riguardo meno della metà dà un beneficio che è inferiore al 10% valutato per esempio per il cuore come riduzione della cicatrice postinfartuale e incremento della forza di espulsione del ventricolo sinistro quindi però ci dà un input importante ci dice che queste cellule hanno un ruolo paracrino in che cosa consiste questo consiste nel fatto che rilasciano fattori di crescita che possono avere un valore trofico o possono stimolare la proliferazione vascolare quindi la paracrini è che è di fatto e non il trasdifferenziamento l'eventuale modesto ipotetico beneficio di questo approccio e ora ma invece la cosa interessante è questa è che gli unici risultati concreti che sono stati ottenuti nella seconda metà del secolo scorso con le cellule staminali quindi non sono affidati al trasdifferenziamento ma piuttosto all'utilizzazione accorta delle cellule staminali endogene di quel tessuto per esempio l'uso di cellule staminali endogene dell'epidermide che adesso vedremo consente di fare trapianti di cute in soggetti ustionati l'uso di cellule staminali del del tessuto emopoietico è alla base della gran parte di un grande numero di terapie di patologie ematologiche delle leucemie che sono i trapianti di midollo osseo ed ancora l'uso delle cellule staminali della cornea consente di ovviare a quei quei casi in cui il trapianto di cornea di per sé non è efficace vediamo rapidamente questi aspetti questo dice qui che è una scoperta della guerra perché vedete irraggiando un topo si uccidono tutte le cellule staminali ematopoietiche di questo soggetto quindi questo topo è destinato ad anemia infezioni emorragie e muore ma noi possiamo prendere le cellule staminali ematopoietiche cioè il midollo osseo di un altro topo che sia molto simile a questo in maniera che non ci sono problemi di rigetto non ci sono problemi di compatibilità immunologica e queste cellule trapiantate proliferano ripopolano il midollo osseo e quindi queste cellule sono capaci di rifare tutte le cellule del sangue è quello che avviene grazie a Dio oramai in clinica questa è una cosa che va avanti da tanti decenni e questo è un vedete questo è lo stesso per l'epidermide si prendono queste cellule staminali tralasciamo questa parte queste cellule vengono fatte crescere in cultura si espandono possono essere messe su un substrato di materiale organico tipo fibrina ed infine si fanno questi lembi che sono molto importanti perché questi trapianti di cute sono le stesse cellule staminali del paziente vedete prelevando pochi centimetri quadrati di cute di un paziente ustionato gravemente ustionato si può far crescere in cultura una quantità notevole di questi creatinociti staminali e quindi poterli ritrapiantare su questo soggetto che se no è destinato a morire e questa è anche questa una cosa grandemente utilizzata in clinica che salva la vita a queste persone anche se questa cute ha dei grossi problemi perché non ha peli non ha ghiandole sudoripere e via dicendo e adesso qui la frontiera è quella di poter correggere in queste staminali in cultura eventuali difetti genetici per patologie tipo l'epidermolisi bollosa per esempio che è una grave patologia andando a correggere cioè il difetto che è responsabile di quella specifica patologia ed infine molto rapidamente quello che si fa nell'occhio vedete questa è la cornea questa banda rossa indica quella che si chiama la regione limbare della cornea dove stanno le cellule staminali della cornea quindi è un epitelio la cornea rivestita da un epitelio c'è queste cellule staminali che continuamente provvedono a riformare questo strato epiteliale ora ci sono delle di solito si ovvia a questo opacamento della cornea attraverso il trapianto di cornea prelevato da donatori a cuore battente o da cadaveri e il grande vantaggio è che tra l'altro questo trapianto non comporta problemi di ordine immunologico perché sono le cellule limbari del ricevente che riparano la cornea quindi è un substrato ma ci sono dei casi quando c'è questo panno vedete qui i vasi congiuntivali che occupano completamente o coprono la cornea e quindi questo non vedono questi soggetti dove il trapianto non funziona e non funziona per un motivo molto ovvio che non ci sono le cellule limbari e quindi non possono ricreare l'epitelio sulla cornea trapiantata e allora che cosa si fa? si prendono da questo soggetto le cellule limbari si fanno crescere in coltura e poi si rimettono in maniera che questo ricrea la cornea e ci accorgiamo che non è più che questo soggetto ha di nuovo un'attività limbare di cellule staminali limbari perché questa cornea non è più invasa dai vasi della congiuntiva e ancora poi dopo di che si può fare il trapianto come vedete questa è una connea trapiantata questi sono i punti di struttura e quindi questo è un concreto approccio le cellule staminali salvano questi soggetti dalla cecità quando nemmeno il trapianto di cornea semplice potrebbe farlo ora quindi abbiamo imparato ora ci torneremo sopra che questi sono i limiti i vantaggi delle cellule staminali diciamo così dell'adulto ma esiste anche una intensa attività proliferativa e quindi cellule staminali durante il nostro sviluppo embrionale noi deriviamo da una singola cellula e diventiamo fatti da miliardi di cellule evidentemente ci sono cellule che sono di nuovo capaci di proliferare dando luogo a una grande varietà di tessuti ora vediamo un po' che cosa succede vedete questo andiamo molto rapidamente sono fasi iniziali dello sviluppo dell'embrione fasi che precedono l'impianto siamo quindi più o meno nella prima settimana c'è uno stadio e l'embrione ha già raggiunto la cavità raggiunge a questo stadio la cavità dell'utero in cui l'embrione ha questa curiosa forma è una specie di pallina cava e c'è quindi una parete che è quella che darà luogo ai tessuti che stabiliranno i rapporti con la madre la placenta ma anche a c'è poi questa masserella che è situata internamente e che si chiama la massa cellulare interna ebbene questa è la massa cellulare è quella da cui deriveranno tutti i tre foglietti embrionali e conseguentemente tutti i tessuti dell'organismo non vado nel dettaglio ma vedete questa linea che fa fegato pancreas apparato respiratorio intestino quest'altra che fa ossa articolazioni sangue vasi muscolo miocardio e infine questa che fa cervello mammella epiteri di rivestimento dente e così via quindi queste sono cellule formidabili queste cellule della massa cellulare interna sono cellule formidabili perché sono cellule sicuramente pluripotenti una trentina di anni fa Evans che poi ha avuto nel 2007 assieme a un italiano a Capicchi il premio Nobel è riuscito nel topo a isolare queste cellule staminali e grosso modo una ventina d'anni dopo verso la fine degli anni 90 la stessa cosa è stata fatta nell'uomo da un altro studioso grosso e che cosa hanno visto? Hanno visto che queste cellule tirate fuori dalla blastocisti sono capaci di proliferare in maniera indefinita non soltanto fanno questo quando sono mantenute in certe condizioni culturali cioè nutrite in maniera adatta idonea ma sono anche capaci di differenziare secondo tutte le possibili linee differenziative come facevano queste cellule nell'embrione quindi facevano intoderma e conseguentemente pancreas facevano mesoderma e conseguentemente cuore e così via queste cellule se opportunamente coltivate anche se questo è più facile a dirsi che a farsi sono capaci di differenziare in secondo tante direzioni quindi infine si tratta di una di una di caratteristiche che possiamo così riassumere sono cellule immortali perché possono essere espanse in cultura non soltanto sono espanse in cultura ma mantengono le loro caratteristiche non vanno incontro a variazione del numero di cromosomi o a mutazioni e al contempo possono dare origine a qualsiasi tipo di tessuto quindi ecco abbiamo trovato una soluzione ai nostri problemi perché sono infine cellule che possono quindi potrebbero concettualmente essere utilizzate per supplire a deficienze cellulari a patologie legate a morte cellulare di qualsiasi organo o di qualsiasi tessuto in realtà come è indicato a destra ci sono una serie di svantaggi perché queste cellule provocano tumore provocano il teratoma e ancora non sono cellule proprie cioè perché queste cellule possono essere compatibili se queste sono cellule insomma è un po' complicato di raccontarlo ma insomma in linea di massima si può dire che non sono cellule proprie e quindi questo comporta il problema del rigetto ed infine hanno una bassa percentuale di sopravvivenza quando sono trapiantati in vivo ora questo è un argomento di grandissimo interesse che solleva grossi problemi bioetici che io non voglio affrontare in questo momento eventualmente se lo chiedete lo affronteremo in discussione potendoci avvantaggiare anche della presenza di Gilberto Corbellini che è un grandissimo bioeticista e un professore di storia della medicina che sicuramente aveva piacere di darci una mano ma una cosa la devo dire queste cellule hanno rappresentato un breakthrough formidabile sono come vedremo quelle che hanno consentito poi di fare un altro tipo di cellula che ha la stessa pluripotenzialità ma che invece è fatta a partire da cellule differenziate che sono le ora le vedremo subito le cellule pulipotenti indotte e comunque senza questo tipo di cellule questa ricerca si sarebbe fermata molto preoccupativamente io l'unica cosa che voglio dire è questo che è gravissimo che nel nostro paese la ricerca non dico l'utilizzazione clinica che ha problemi iniziali enormi ma la ricerca su questo tipo cellulare sia non ben vista ed ostacolato mentre questo non succede in altri paesi e questo naturalmente ci lascia indietro in questo settore ora andiamo a questo argomento figlia della cellula staminale embrionale è la cellula pluripotente indotta questa è una formidabile scoperta di pochi anni fa di un giapponese che si chiama Yamanaka e che ha avuto dalla crema dei lincei il premio Balsan due anni fa il quale è riuscito in una maniera apparentemente semplice ma in realtà una maniera che è semplice perché lui si è potuto avvantaggiare non soltanto della sua esperienza ma del formidabile progresso delle conoscenze su quella che è la regolazione dell'espressione del gene che non era presente ai tempi di Evans e via dicendo cioè lui che cosa ha fatto? Lui prende dei fibroblasti di cute va bene? Di un soggetto che qualsiasi in questo fibroblasto di cute per esempio un soggetto che supponiamo in prospettiva che ha un Alzheimer in questo fibroblasto di cute quindi introduce dei cosiddetti fattori di trascrizione adesso vedremo di che cosa si tratta sono delle proteine che in qualche modo agiscono sul gene regolando nell'espressione introduce questi fattori di trascrizione quali fattori di trascrizione introduce? Introduce quei fattori di trascrizione che lui sa essere presenti perché l'hanno studiati nelle cellule staminali pluripotenti nelle cellule embrionali staminali che sono pluripotenti e se ne conoscono una ventina lui ce ne ha messi 20 dentro e li fa entrare con dei virus con dei retrovirus quindi entra una tecnica abbastanza complessa ma a disposizione cioè molto diffusa e poi va a scalare cioè si accorge che queste cellule diventano pluripotenti ma 20 fattori di trascrizione sono tanti quindi riduce 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 finché è arrivato a definire che con 4 fattori di trascrizione questo riesce a far diventare questi fibroblasti delle cellule che si comportano esattamente come le cellule staminali embrionali quindi il vantaggio è cospicuo non abbiamo più problemi bioetici perché si tratta di fibroblasti del paziente è una pratica molto costosa ma lui ha avviato anche a questo e quindi si può pensare che queste cellule queste cellule poi come le cellule staminali embrionali differenziano secondo le varie linee quindi possono fare neuroni possono fare miocardio e così via quindi è una cosa di enorme interesse anche qui però è una ricerca che è iniziata pochi anni fa e che dopo gli esperimenti di Amanaka adesso ci saranno perlomeno 50 laboratori in giro per il mondo che lavorano su queste cose anche qui c'è il rovescio della medaglia di nuovo il rovescio della medaglia essendo uno prima di tutto e cioè che anche queste cellule fanno tumore e fanno tumore possono far tumore proprio perché per inserire il fattore di trascrizione bisogna adoperare un virus non voglio assolutamente farvi una lezione di biologia molecolare ma soltanto farvi vedere più o meno che cosa vuol dire questi sono i nomi che non ci interessano dei quattro fattori di trascrizione che questo signore ha adoperato per far diventare queste cellule più potenti quindi che cosa ha fatto ci ha messo dei fattori che creano l'accesso al DNA alla cromatina che forma il DNA e che poi bloccano certe possibilità per esempio la morte programmata di queste cellule e il loro invecchiamento e invece possono trasformarle in cellule pluripotenti e vedete che qui è indicata questa grossa freccia che questo fattore di trascrizione che è fondamentale perché crea l'accesso al gene al tempo stesso è quello che può determinare il tumore adesso stanno lavorando intensamente su questa cosa ma sicuramente queste non sono cellule pronte per essere utilizzate non sono cellule pronte per essere utilizzate perché il rischio di tumore è troppo elevato ma è chiaro ed evidente che come vedremo alla conclusione la prospettiva è interessante perché il momento in cui riescono come vedremo a eliminare magari simicco a trovare altri modi che riducono o annullano meglio ancora questa possibilità è chiaro che questo è uno strumento di grande potenza ora il il comunque queste IPS IPS vuol dire Induced Pluripotent Stem Cells cioè cellule staminali pluripotenti indotte per distinguere da quelle invece spontanee naturali che sono cellule staminali embrionali queste cellule sono già utilizzate da moltissimo perché sono dei formidabili modelli sperimentali per poter studiare in vitro le patologie che bisogna affrontare perché è chiaro che se prendiamo il fibroblasto di una persona che ha il Parkinson quella cellula avrà problemi a livello del suo genoma che sono quelli che poi le portano al Parkinson quindi rappresenta un modello per poter studiare quali sono i meccanismi che sono alla base di queste patologie addirittura per esempio Melton che è un grande formidabile studioso di questi argomenti che sta a Boston studia i pancreas va bene prendendo fibroblasti studia diabete di primo tipo prendendo da soggetti che hanno queste cellule da un portatore un soggetto affetto da diabete di primo tipo va bene dopo di che introduce questa cellula in un animale in un topo di questi che hanno un sistema immunologico depresso per cui non viene ricettata e in questa cellula in quest'animale lui può studiare nella progenie la malattia facendo riferimento sia ai problemi che hanno le cellule beta del pancreas che sono quelle che non producendo insulina provocano diabete ma anche le cellule immunocompetenti che probabilmente sono quelle responsabili del fatto che le cellule beta non funzionano più quindi insomma il grande vantaggio per ora delle cellule che sta riprendendo grande piede le cellule endogene non le cellule di altre nicchie che trasdifferenziano e inizialmente questo è stato fatto proprio con frammenti di tessuto nervoso che venivano utilizzati naturalmente questo è un approccio rude e ha grossi problemi bioetici anche perché si tratta di recuperare un tessuto di un aborto ma ecco da questo tessuto anche da prelievi di cefalo da adulto sono state fatte è stato possibile tirare fuori delle cellule tirare fuori delle cellule che si chiamano cellule staminali neuronali che possono essere ben facilmente espanse in cultura espanse vuol dire che si riesce a farle moltiplicare e che poi si riesce anche sono abbastanza hanno presente una notevole plasticità cioè la capacità di differenziare il cervello è fatto di tanti neuroni molto diversi l'uno dall'altro dal punto di vista funzionale quindi non è un problema di poco conto ora queste cellule quindi in realtà rappresentano la novità e quello che ha maggiore potenzialità naturalmente rimane da definire non poco rimane da definire come farle differenziare nei vari lineage nelle varie linee cellulari per esempio nelle cellule dopaminergiche che mancano nel paziente che ha il Parkinson ecco e questo è un problema complesso e qui di nuovo il piccolo vantaggio deriva dal fatto che gli strumenti per poter capire come questo deve essere fatto sono più a disposizione sono più disponibili di prima in altre parole è possibile studiare in natura nell'embrione questo processo differenziativo andando nel dettaglio molecolare e capire quindi cosa bisogna fare per cercare di fare in maniera che queste cellule si avvino in maniera corretta verso un certo tipo di differenziamento qui ci sono delle delle è un approccio che è molto difficile ma sicuramente è di prospettiva l'uso quindi di cellule endogene cellule staminali neuronali endogene è qualche cosa che vedremo è messo tra le cose che sono forse potenzialmente possibili non nell'immediato futuro ma in prospettiva e rimangono sempre i problemi di fare in maniera che queste cellule si vanno a localizzare nel punto dove devono essere che differenziano in maniera corretta e che abbiano che sopravvivano e che perché quello che sta venendo fuori sempre di più è che in realtà nei tessuti ci sono un sacco di cellule staminali endogene ma allora perché non viene riparato l'infarto del miocardio perché non viene riparata la lesione neuronale del Parkinson a livello della sostanza negra del cervello medio è perché ci sono un sacco di complicazioni bisogna far arrivare le cellule bisogna fare in maniera che differenziano correttamente ma ancora di più bisogna far vedere in maniera che questo ambiente alterato dalla patologia non le uccida subito nel miocardio per esempio contrariamente a quanto si pensava prima c'è una quantità enorme di cellule che cominciano a proliferare subito dopo un infarto cellule staminali ma muoiono muoiono probabilmente tutte le tossine tutte le molecole che si liberano a livello della zona infartuata quindi il problema è complesso e anche questo è un approccio che si può fare c'è un esperimento che dico molto rapidamente perché non voglio forse è meglio che no perché sennò perdiamo troppo tempo lo facciamo semmai in discussione scusatemi quindi ecco questo è un approccio un altro approccio che mi piace di ricordare è questo che è figlio dell'IPS cioè Yamanaka che faceva prendeva cellule completamente mature completamente differenziate e contrariamente a qualsiasi credenza perché tutti ritengono che le cellule totalmente differenziate non possano tornare indietro se una cellula è differenziata è matura non sa più rifare non si ha riacquistato la pluripotenza anche se in realtà c'erano un paio di informazioni fondamentali che facevano capire il contrario Gordon più di mezzo secolo fa nel 54 ha fatto una rana mettendo il nucleo di una cellula somatica in un ovoscito al quale aveva tolto il suo nucleo facendo una rana quindi che vuol dire che in qualche maniera quello ovoscito era capace di stimolare quel nucleo tutto differenziato che sapeva fare soltanto collagene e cose del genere facendogli riacquistare la pluripotenza è chiaro che nel 54 Gordon non poteva sapere come questo avveniva Yamanaka l'ha capito ci ha messo dentro le molecole responsabili della pluristaminalità ecco però questa è una novità in più cioè l'idea è questa ma se io dedifferenzio cioè faccio ridiventare piccola una cellula la faccio ridiventare giovane fino a diventare pluripotente va bene questa cellula sì mi fa tutti i tessuti ma mi fa anche tumore perché questa pluripotenza gli dà questo tipo di potenzialità ma se io invece di farla ritornare alla pluripotenza la faccio tornare a mezza via e la faccio diventare un precursore cioè una cellula che non è proprio all'inizio della catena ma è a metà e questa sarà più facile condurla poi a un differenziamento terminale e questo è quello che lui ha fatto per esempio nel pancreas Melton ha preso delle cellule del pancreas esocrino quello che fa gli enzimi gli enzimi digestivi no? e mettendoci dentro alcuni fattori di trascrizione ha fatto sì che queste cellule diventassero pancreas endocrino cioè le cellule beta del pancreas endocrino quelle che fanno insulina questo è un problema enorme se voi pensate alla enorme quantità di soggetti affetti dal diabete e delle gravi complicazioni a livello oculare a livello renale a livello cardiovascolare del diabete questo è un problema enorme perché lì veramente l'unico approccio è la sostituzione di queste cellule che non funzionano e quindi aver visto che è possibile senza tornare alla propriprudenza ma con questa riprogrammazione diretta in una condizione sperimentale che però lui riesce a replicare anche in vivo ma di nuovo riesce a fare cellule beta è un passo avanti di grandissimo interesse ancora una volta lontanissimi da una possibile applicazione perché gli stessi problemi ci sono sempre lui adopta dei retrovirus per far entrare questi fattori di trascrizione questi tre fattori di trascrizione che fanno diventare queste cellule beta del pancreas da cellule esochine ma comunque è un altro approccio e questi due approcci che sono appunto le cellule endogene e la riprogrammazione diretta cioè non tornare tanto alla pluripotenza quanto a una situazione intermedia tra la cellula completamente matura e la cellula invece pluripotente è un approccio che dopo che Melton l'ha visto nel pancreas tutti lo stanno facendo anche nel cuore anche nel tessuto nervoso e quindi adesso spendo poco tempo con le patologie neurocettative soltanto per aggiungere quanto vi ho già detto che ci sono due trial clinici di breve cominciati da poco che adoppano le cellule staminali neuronali una per questa lipofuscinosis ceroide neuronale dove i dati iniziali sono ancora molto esigui ma quantomeno fanno vedere che non fanno male fanno vedere che la procedura neurochirurgica che le stesse cellule e che tutto il trattamento immunologico per controllare i problemi immunitari non fanno male e il secondo è appena iniziato per una patologia dove c'è un difetto di mirinizzazione e di questo ancora non si sa niente ma ecco qualcosa rapidamente sul cuore finisco subito di nuovo anche qua non batto tutte queste strade che abbiamo già visto i problemi delle indotte le conosciamo e anche le essere sappiamo anche qui il grosso la grossa novità è questa le cellule cardiache staminali il cuore diversamente da quanto si pensava è pieno di cellule staminali e sono state identificate varie classi di cellule staminali che sono chiamate cellule progenitrici cardiache e alcune di queste classi questo è un elenco che naturalmente non pretendo che voi leggiate di tutti i trial clinici che sono attualmente in corso e alcuni sono già finiti che utilizzano cellule staminali per terapia di che cosa sostanzialmente dell'infarto e non passiamo attraverso queste che sono appunto le cellule dal midollo osseo vi parlo soltanto di queste che sono particolarmente interessanti che sono quelle che adopano questi precursori staminali cardiaci la prima che si chiama Carduceus è affidata a queste Cardiosfere mi piace citare questa ricerca perché è una ricerca che nasce in Italia e nasce alla sapienza la dottoressa Messina ha messo a punto questa tecnica per cui da un piccolo espianto di miocardio si possono avere queste cellule che si accrescono e che formano delle sfere che contengono una grande quantità di cellule staminali ecco questo è un trial clinico che adopta queste Cardiosfere e considerate che dopo un anno dal trattamento con queste cellule di provenienza dalle Cardiosfere questi pazienti hanno una riduzione della dimensione della cicatrice post-infartuale del 42% che non è stato ottenuto in nessuno dei precedenti esperimenti quindi esistono delle popolazioni delle cellule progenetici cardiache di vario genere non sto a dilungarmi che sono quelle di prospettiva di nuovo ben lungi da soluzioni concrete ma quelle sulle quali si sta studiando e la riprogrammazione diretta di cui vi ho già parlato a proposito del tessuto nervoso e che è identica anche qui cioè portare queste cellule in maniera opportuna allora in che direzione quindi va la ricerca sulle cellule sulle cellule staminali beh molto alla rigenerazione endogena ma anche queste cellule come vettori di sostanze solubili cioè la paraclinia addirittura sono adoperate come cellule vettori di sostanze solubili per affrontare patologie completamente diverse che non si giovano della sostituzione da parte di cellule derivate da cellule staminali ma proprio perché sono un buon vettore quindi si fa arrivare un gene suicida a un tessuto tumorale per esempio quindi proprio come vettori l'altra ricerca è questa della tridimensione perché vi ho accennato alla nicchia la nicchia non è una cosa piatta bidimensionale è una cosa tridimensionale dove a seconda del contesto questi ricevono informazioni da più parti e quindi si è creato questo problema che è un problema di ingegneria non più di biologia cioè fare questi scaffolds fare queste strutture portanti che siano idonee a far sì che poi si possano aggiungere a queste componenti della nicchia che opportunamente e nel tempo segnalano alle cellule staminali perché il problema non è di semplicissima situazione ora come concludo mi piace di concludere con delle tabelle che sono uscite proprio sul sole di 24 ore non più di 14 giorni fa due o tre settimane fa e che sono state messe a punto da due studiosi uno è questo Michele De Luca che è quello che si è inventato assieme ai suoi ricercatori e per esempio non l'ha inventato lui ma però è uno di questi che fa pelle per gli ostionati ma ancora di più dal suo laboratorio sono venute i primi trapianti i primi trapianti con cellule limbari per il panno corneale va bene e vedete che le cose che sono già esistenti ve l'ho detto cellule emopoietiche per la patologia per le leucemie le cellule epistaminari epidermiche e le cellule limbari di cui abbiamo già parlato e cosa è possibile in futuro a breve beh specialmente gli epiteli perché vedete la terza dimensione crea grosse complessità mentre invece un epiteli è bidimensionale e tanti problemi sono molto più facilmente affrontabili e questo per gli altri epiteli di rivestimento congiuntivo ma anche la rigenerazione di cartilagine osso è in fase abbastanza avanzata cosa è possibile ma non certo che si possa fare solo in futuro ecco cioè possibile ma non certo che vuol dire che se la ricerca continua a essere fatta con l'intensità con cui viene fatta e questo settore lo merita lo merita perché non ci sono soluzioni alternative per molte patologie che non la sostituzione delle cellule morte da parte di cellule nuove ecco che allora la rigenerazione di tessuti diversi mediante cellule estremamente proie potenti è una cosa importante purché si risolvano questi problemi qua che ha la loro tumoregenicità prima di tutto ma anche la propria altra generazione di tessuto cioè che queste cellule differenzino opportunamente e siano capaci poi di sopravvivere e infine vedete di nuovo le cellule riprogrammate quello su cui vi ho parlato sia per pancreas sia per per il cuore sia per il tessuto nervoso ecco poi c'è una terza cosa che invece bisogna considerare e che è quella grave che venga ancora fatta e come e che specialmente quando viene fatta per motivi di tipo commerciale ecco quella di adoperare cellule adulte tessuto specifiche derivate da tessuti diversi da quelle che si vuole rigenerare è proprio quella che vi dicevo prima cioè il trapianto autologo di cellule da midollo osseo per trattare una patologia cardiaca o una patologia del sistema nervoso centrale questo siamo al limite non voglio usare parole forti ma siamo al limite magari involontario ma della truffa ancora questo di adoperare la paracrinia gli effetti trofici antinfiammatori questo va bene ma non per patologie gravi non è un motivo per fare per fare una terapia con cellule staminali ed infine quello di trapiantare per via sistemica cioè attraverso il sangue cellule staminali diverse dalle cellule ematopoietiche sono soltanto le cellule ematopoietiche che possono andare in circolo le altre se ci vanno fanno danni quindi qual è un buorni da fare a tutti gli operatori che magari in buona fede si cimentano con terapia con cellule staminare è che in realtà non si può fare a meno di ricorrere soltanto alle terapie che sono approvate e stabilite dalle autorità regolatorie non ci sono scuse non può essere un giudice che delibera che quella cura staminare può essere fatta debbono essere gli esperti del settore a fare e l'Italia come l'Europa come il resto del mondo ha le sue attività regolatorie vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti